Salve a tutti amici dei Transformers da JustLuca di Autorobo.it e benvenuti a una nuova video recensione di Transformers dopo l'anticipo, l'aperitivo diciamo visto quasi una settimana fa nella diretta live streaming dove presentavo in generale la linea Legacy ma appunto ne facevo anche un unboxing oggi parliamo di Blaster, finalmente il Blaster Legacy Voyager che però sappiamo essere uscito già come anticipo anche lui, come antipasto per Kingdom nell'ultimissima wave di Kingdom anche se praticamente era appunto previsto per Legacy nelle varie linee nelle varie scusate liste anticipatorie ma anche nell'immagine qui fra i protagonisti dell'Artbox però diciamo se lo aspettava lo si aspettava eccomi io lo si aspettava già forse a grandi linee diciamo ipoteticamente per War for Cybertron dato che sappiamo appunto abbiamo visto e stravisto poi tra l'altro ultimamente nelle recensioni a lui dedicate al personaggio di una Sunwave che di solito appunto dato che avevano fatto appunto Sunwave per War for Cybertron Siege di solito c'è questa regola non scritta in Asbro che se fanno un Memor o un Blaster poi di seguito appunto viceversa ne fanno da quello stampo grosso modo ne fanno appunto un Blaster o un Soundwave o un Soundwave insomma praticamente come visto appunto nelle linee Fall of Cybertron e Titan Lettons ma questa volta no questa volta diciamo ci hanno fatto un po' aspettare anzi ci volevano fare aspettare ma alla fine è uscito lo stesso per abbiamo detto per l'ultimissima wave di Kingdom ma alla fine Blaster è uscito sì adesso per Legacy proprio tra l'altro una distanza di pochissimi mesi un paio proprio e però possiamo vedere che non è affatto appunto un un remold un repaint tanto meno e un remold alla buona magari del buon Soundwave dato che hanno la struttura diversa per quanto poi anche le trasformazioni mali sono un po' simili e anche hanno la stessa gimmick come ben sappiamo ma il nostro Sound il nostro Blaster qui è ben più alto quasi una testa di di Memor dato che come sappiamo anzi sappiamo relativamente perché magari anche a me è un po' la cosa non ci ho mai fatto tantissimo caso ma effettivamente Blaster è fra gli Autobot più alti come possiamo vedere rivaleggia con Optimus Prime diciamo che dovrebbe essere forse dovrebbe essere quella mezza testa in più se andiamo a guardare proprio con la lente di ingrandimento la scala le scale ufficiali ma alla fine siamo lì tra l'altro forse magari la testa è anche un po' allungata ma poi ci torna un po' sulla fattura in sé del personaggio ovviamente poi come mai che Blaster comunque è così alto poteva essere un po' più basso ma già nei settei dei cartoni animati ma evidentemente un omaggio al giocato l'originale che era sto colosso qua anche se scusate abbiate pazienza che il mio Blaster qui è un non dico che è un mezzo rottame ma un avance insomma diciamo preso giusto per averlo per fare per fare scena in mezzo agli altri robot ma appunto Blaster era un signor giocattolo bello grande ma ripeto esordito nella seconda stagione nel 1985 in nei cartoni animati e tra i protagonisti poi della terza e anche qui ci torniamo però da noi era già noto o era noto nel stesso periodo praticamente nell'84 85 più 85 direi dato che faceva già parte della linea Micro Change Micro Man Diaclone insomma i primi Transformers che uscirono qui possiamo vedere la versione originale Takara e la versione originale Takara in quanto Radio Robot appunto Super Radio Robot era non era un semplice giocattolo ma era praticamente proprio una radio funzionante con tanto di elettronica sui con tanto di antiparlanti presa per le cuffie funzionante e appunto proprio batterie e tanto di radiolina incorporata che era all'interno di questa cassettina qui che andava appunto nel vano del petto e praticamente era proprio una radio funzionante cosa che però nella versione nella versione grazie a Topolino per la pubblicità nella versione dove lo metto questo poi nella versione invece dei giocattoli del giocattolo Asbro Transformers hanno tolto tutta l'elettronica praticamente e hanno lasciato però il vano questo sì mamma mia il vano apribile che però sarà poi utilizzato al meglio nella terza stagione dove fanno il loro esordio le cassettine tipo Eject questo qui anche lui come Sandweb avrà la sua banda di scagnozzi possiamo chiamarla così tra cui un paio di robot umanoidi ovvero Rewind e Eject Eject che è ne parlo appunto perché è annesso alla confezione poi ci torno anche con i confronti con il G1 intanto parliamo un attimo velocemente di Eject che è praticamente appunto la versione moderna moderna no moderna diciamo un'ennesima versione di Eject o meglio dello stampo delle cassette bot autobot dato che prima ci sono stati la versione Fall of Cybertron che diventava un disco abbiamo visto andate a vederli poi la video recensione di Fall of Cybertron Soundwave appunto dove ci sono anche le cassettine i dischi i dischi cassettine che si trasformavano di cui hanno fatto anche appunto la versione autobot che però non ho praticamente preso solo quella volta solo praticamente tutti i minion di Soundwave e Soundwave mentre Blaster i sui minion li ho proprio lasciati lì ma hanno fatto una versione successiva di Blaster Titan Retune come accennavo hanno fatto la versione leader bello alto che rivaleggiava appunto con l'altezza del G1 che era una bella citazione del G1 a livello di giocattolo bello grande come era il G1 anche se praticamente molto fuori scala comunque era bello anche perché si trasformava anche in base tra l'altro che purtroppo non ho se no ovviamente serve qui a fare bella mostra ma oltre ai Blaster e a Soundwave Soundwave ricavato da quel Blaster hanno fatto un paio di omaggi alle cassettine versioni moderne potremmo dire delle cassettine ovvero i minion versione Legend Legend Basic insomma belli grandi per essere appunto dei Legend ma grandi appunto per essere grandi quanto per stare su un leader Titan Retune dei tempi sì Titan Retune sì ma sta andando un attimo in pallone con le classi con le linee mentre questo ovviamente è piccino questo non hanno fatto però la versione di Eject questo Rewind quello nero il cassette bot Autobot nero non l'hanno fatto con versione Titan Retune ufficialmente possiamo vedere comunque tutto il nostro discorso a livello di l'aspetto è quello ma poi la trasformazione è simile diventava una specie di carro al mattino e anche una sorta di iPad un pad insomma un telefonino quella roba lì il nostro invece Eject dicevo comunque è un accessorio gradito perché ricordiamo che comunque Sunwave Siege Voyager in versione normale era sprovvisto di Minion di Micromaster quella volta li hanno chiamati Micromaster perché avevano anche le spine per essere per attaccarsi a fare delle specie di scudi insomma a livello come i Micromaster insomma li hanno battezzati così per War for Cybertron invece il nostro eccolo qua tra l'altro scusate parlo ma senza mostrarlo questo è Rumble o Frenzy sempre a seconda del discorso dei nomi scambiati dei due già ai tempi della G1 c'erano queste spine se si intravede che potevano essere appiccicate a mo' di poi diventavano delle sorte di scude mentre comunque vediamo che l'altezza dei robottini è quella ma il nostro Eject qui è migliore a livello di articolazioni dato che può oltre alle articolazioni basi comunque ben messi anche su quel piccolo robottino qui di Rumble o Frenzy abbiamo anche la rotazione delle braccia così come invece che avere la spina qui possiamo vedere che il nostro ha se si si vede in mezzo alla plastica trasparente comunque c'è ci sono dei fori per arma classici quelli da 5 millimetri il nostro volendo può appunto avere un'arma come era già nel robot G1 ai lati proprio anche delle braccia e quindi è davvero interessante questa cosa questa versione diciamo questo aggiornamento di cassette bot per quanto simili tra l'altro compatibili adesso andremo a vedere che lo trasformo in cassettina qui è davvero interessante perché appunto volendo potevano starci anche delle versioni magari mignon di fucili qua che ha il nostro reject originale tra l'altro anche questo scusate se è un po' consumato è andata via tutta la parte della impannatura dorata che possiamo invece vedere brillare qui nell'originale tra l'altro la faccia è quella della versione cartoni animati ovvero con due occhietti sempre la mascherina per carità e due occhietti mentre l'originale giocattolo aveva il visore e se andiamo a pescarlo il settei diciamo nel grazie si rispetto ai miei soliti potenti mezzi grazie a questo bel transformers universe malamente sopravvissuto alla mia infanzia diciamo dove sei eject la d eccolo qua tra l'altro interessante diciamo il nome italiano che avevano trovato per eject ovvero catapulta questo è appunto il settei i colori erano un po' abbozzati nell'universe qui ma comunque sono quelli e a livello di somiglianza poi anche cromatica non ha le braccia grigie come il g1 per carità per adesso non è affatto male però possiamo vedere ovviamente il discorso che come il blu non è un blu normale ma è un blu in plastica in azzurro in plastica trasparente questo perché in questa maniera il nostro diciamo fa parte di Energon di Energon sì beh siamo lì di Legacy l'avevo già anticipato nella presentazione della scatola e tutto insomma di Cosu qui di Blaster e della serie Legacy ovvero che i Legacy saranno accompagnati da delle armi in più in plastica trasparente a modi armi di Energon insomma cosa già vista appunto fratellità nella serie Energon non a caso e questa riproposizione di questa gimmick con questa scusa della riproposizione di questa gimmick invece di metterci un'arma di fantasia in più un accessorio in più per Blaster hanno pensato bene di dare di fare il partner qui Eject di farlo praticamente in plastica trasparente di Energon così diciamo hanno ovviato il discorso dell'accessorio in Energon ma non non ci hanno privati dell'avere il buon una un cassette bot da abbinare appunto alla gimmick che per il momento per il momento non ci sono non mi pare che siano stati annunciati dei core relativi ai personaggi cassette bot di Blaster speriamo che li faranno più avanti in qualche maniera però è stato annunciato già una versione lo dicevo di Twincast che sarebbe l'evoluzione colorata ad azzurro di Blaster vista in Edmaster quindi chissà che magari non ci mettano molto probabilmente a pensarci la versione nera di Eject ovvero rewind ma in plastica nera trasparente vai a sapere così diciamo che per avere almeno l'altra coppia l'altro tizio l'altro cassette bot di Blaster bisogna avere Twincast che però non sarebbe neanche brutto lo stesso avere questo stampo qua dato che alla fine adesso andiamo a vedere non è affatto male comunque dicevo a proposito del discorso delle cassettine se si intravede ci sono i fori come nelle cassette diciamo le musicassette di una volta fori che erano appunto anche qui nella cassette solo che vabbè la cassetta era disegnata nel retro qui il retro non è che sia proprio disegnato bene come una cassetta ma vabbè comunque diciamo che lo sforzo c'è e lo si premia passiamo ah sì compatibilità un attimo veloce con il buon la cassetta è compatibile con cosa qui con Sunwave e quindi andiamo a vedere poi tra l'altro dicevo comunque Blaster questo è il nostro Blaster è versione appunto è molto è più generation è generation insomma ma non è studio nel senso che non è sputato a come dovrebbe essere il il settei che adesso vado a trovarvi sì eccolo qua il settei del del G1 che aveva fatalità i dettagli qui delle spalle delle braccia erano sbagliati nel senso che praticamente questi dettagli qui erano nei lati dato che quando hanno evidentemente trasposto hanno fatto il design del robot si siano basati su una mistrasformazione insomma di Blaster con le braccia ruotate così come dovrebbe trasformarsi quindi questi dettagli quindi questi dettagli qui sono ai lati delle spalle se si vede le righe sono davanti le linguette qui del pugno che rientra sono ai lati eccetera eccetera quindi diciamo che il settei era basato su una versione appunto non trasformata bene del Blaster originale ma questi dettagli sono riportati comunque fedelmente nel nostro generation che cerca di essere appunto una versione il più possibile ibrida sia del non che ci sia sta gran differenzione ma del settei che aveva appunto le linee frontali appunto eccoli qua ma anche i dettagli sulle spalle che saranno ricordare queste mancano questi qua nella versione del giocattolo così come le linguette appaiono si si intravede bene appaiono anche qui insomma nei dettagli scolpiti belli comunque dettagli anche delle gambe ginocchiere eccetera eccetera insomma è davvero un bello bello stampo ovviamente quella la cosa che salta più all'occhio è la faccia che è quella del cartone animato che è praticamente senza mascherina potremmo dire o senza visore come già nel settei del cartone animato laddove invece praticamente il nostro giocattolo G1 non è che avesse un visore ma se si guarda bene praticamente aveva una sorta di mascherina aperta cioè la mascherina ma con la bocca libera insomma un po' come per farvi prendere l'idea quella che ha Optimus Primal diciamo iconicamente aveva la mascherina aperta ma comunque lo stesso con il segno qua intorno alla bocca alla parte inferiore della faccia laddove invece questa era stata interpretata diciamo liberamente nel fumetto della Marvel dove invece aveva direttamente proprio un visore il nostro reperto storico qui di del Peripersi G1 possiamo vedere ha proprio un visore effettivo davanti agli occhi con un visore anche se con gli occhi separati ma comunque appunto tra l'altro io sarei affezionato più alla versione fumettistica di Blaster diciamo che non ha quella mi aveva colpito di più ai tempi la versione fumettistica di Blaster dove era appunto un personaggio una sorta di avventuriero e tutto ed era davvero un bel personaggio per i tempi gli aveva dedicato Budiansky gli aveva dedicato belle avventure diciamo belle storie dove esordiva come nella nella resistenza Autobot su Cybertron ma quindi torniamo a parlare del nostro appunto qui che comunque però la faccia col visore è citata nella versione Titan Return Leader però non sarebbe male ma vai a sapere male se fanno Twincast o se lo fanno col visore chissà ma comunque già questo Blaster dicevo alla fine è molto bello come robot diciamo comunque abbastanza semplice perché alla fine diventa una radio una sorta di triangolo ma vabbè è comunque bello ben fatto ben impostato antropomorfo nelle formi laddove appunto magari il G1 il settei aveva ste gambone grandi che comunque prendeva un po' spunto dalle gambe ovviamente del G1 mentre la testa ne torna sempre indietro questi gambone qua del G1 ma comunque non era affatto male lo ste c'è vabbè un giocattolone il nostro è bello ah tra l'altro fa un po' sorridere diciamo il fatto che comunque il G1 aveva i ruoti i ruoti che pugnavano i pugni che ruotavano per via della trasformazione e invece il nostro purtroppo no per via della trasformazione che adesso andremo a vedere andremo a vedere però ha questa finezza del dito vediamo se si vede il dito così a indicare che fa il paio con quello di Sandwave da dove Sandwave aveva il dito sulla mano sinistra per fare questo movimento qua come si vede nel cartone lo stesso appunto hanno ben pensato di mettere nella mano destra il dito per premersi il pulsante nello stomaco come faceva nel cartone per fare poi aprire il vano e inserirci appunto il bone eject che così appunto la gimmick è preservata anche se ripeto speriamo che facciano saltare fuori qualche cassettina in qualche maniera basta che non siano delle cacchiode esclusive costose e rare da trovare a proposito scusate tornavo un attimo sul discorso della nuova modalità di fare le cassettine che semplicemente appunto mi pare che sia comunque previsto un Rumble o Frenzy versione studio serie core quindi chissà se non praticamente rifanno i cassette bot magari li buttano in mezzo ai studio series però non so se alla fine sarà sempre questa versione qua magari di Frenzy o Rumble quel cavolo che hai visto su War Cyber trova una versione diversa che magari riprende spunto e si omiglia un po' più a una cassetta diciamo come quella dei vecchi tempi con i fori appunto chissà ma comunque torniamo al nostro blaster che è bello bello grande come come Robo abbiamo detto ha il suo bell'accessorio cassettina eject ha anche altro accessorio giustamente il suo fucile storico suo bel fucilone è ben dicevamo posabile solito ormai niente di eccezionale dato che lo standard questo qui quello di Warforce Arbitral in poi a parte la rotazione di polsi che però possono applicarsi all'interno un pochino vabbè è ben snodato le spalle e tutto si diceva un atimo la testa che comunque si è quella senza mascherina eccetera eccetera però se andiamo a guardare la testa del robot è un po' più schiacciata quindi magari ci stava che era un po' più schiacciata anche il nostro dato che comunque magari dovrebbe essere quel pelino forse un po' più basso di Optimus Prime come avevo visto dice è giusto giusto ma comunque è bello vedere che ci sia un bello cioè è bello avere un Voyager bello grande insomma quando paghi quei 30 magari un poco più di euro te li godi diciamo questi giocatoli belli grandi almeno e quindi tra l'altro è bello pieno a livello vabbè ci sono un po' di vuoti qui per vedere la trasformazione dentro gli avambracci e magari un po' dietro le cosce ma ripeto niente di da strapparsi i capelli eccetera ma comunque appunto andiamo a vedere la trasformazione che diciamo è banale la trasformazione della legione adesso non sto neanche qui a trasformarlo ma appunto era semplice e intuitiva nel senso che forse ce la faccio a trasformarlo sì dai ruotava si andavano a ruotare appunto la testa qui ruotava e andava a chiudersi ruotava verso l'esterno le braccia ruotavano i pugni per rientrare si accorciavano gli avambracci e le gambe qui andavano a ripiegarsi lateralmente non prima di aver tirato fuori i manici della radio della radio sì insomma sì ecco qui e avevamo questa bella sorta di radiolona funzionante che comunque fa scena e protagonizza tra l'altro comunque il nostro radio robot di bei episodi epici nella seconda stagione così poi diventa quasi comandante di città autobot nella terza stagione la trasformazione del nostro è ovviamente simile ma con qualche chicca in più qualche variazione niente male ovvero la testa qui semplicemente si ruota all'indietro e va a nascondersi all'interno di questo pannello le braccia qui si accorciano in questa maniera ovvero ruotando in questa maniera le all'infuori i pugni e poi ruotano di 180 gradi e ari ruotano in questa maniera qua in modo da andare a nascondere i bicipiti lasciando all'esterno i pugni ruota anche il bacino ah si scusate prima di tutto però da notare tra l'altro molto non è che sia essenziale ma è interessante vedere che per la trasformazione bisogna ruotare le le casse davanti alla alle gambe laddove poi invece le casse effettive sono queste qua laterali più grandi ruotano si chiudono i piedi come nel G1 in più però qui abbiamo dei pannelli che saltano fuori dal retro si dispiegano e come nel G1 poi le gambe vanno a incastrarsi ai lati ruotano verso l'alto inglobano i pugni con questi pannelli che vanno a praticamente a coprire le braccia faccio una pausina giusto per incastrare bene i pezzi ecco qua scusate ho incastrato bene i pannelli tra l'altro bisogna fare un po' attenzione dato che qui quando si richiudono le gambe le parti laterali fa un po' fatica ad incastrarsi col pannello questo qui che era dietro il sedere che va anche questo a incastrarsi infine tocco finale abbiamo ovviamente il manico della radio insomma che va anche qui ah si scusate mi ho anche scordato di dire che appunto in quanto generation post war for cyberthron il nostro era bello traforato di fuori per armi insomma nei tutti i posti i soliti classici lo sapete bene tra l'altro va sottolineato che aveva ben tre fori dietro la schiena comunque sulle spalle i lati degli avabracci eccetera eccetera i lati dei gambe sotto i piedi ci riva tutti e ovviamente appunto dicevamo il nostro il manico insomma della radio eccolo qui il nostro bel radio robot ovviamente più minuto dell'originale ma fa lo stesso la sua bella figura abbiamo infine la pistola che va il fucile che va a sistemarsi qui dietro all'interno del nella parte posteriore tramite una fessura apposita nella spina giusto per andare a nascondersi dietro la radio e niente è morta lì una simulazione un giocattolo che ricordo una radio come era già il G1 che non era una radio funzionante effettiva però ripeto almeno alla gimmick del lancia del mangiacassette con tanto di cassettina all'interno e quindi diciamo che come appetibilità per un pubblico di bambini odierno come se Maribu a mia età ci davano un gramofono trasformabile vabbè non funzionante però ripeto per noi fan è una gioia per gli occhi rivedere il buon Radio Robot in versione moderna versione di radio ovviamente che si trasforma finalmente già come appunto il buon Netflix Sandwave che però quello era un'esclusiva mentre il nostro qui l'hanno fatto uscire come modalità di radio effettiva per due linee appunto su Kingdom e adesso su Legacy quindi evidentemente sapevano cosa facevano nonostante ripeto si trasforma una cosa che è diciamo decisamente passata di moda per il pubblico di adesso però decisamente ovviamente sempre nei nostri cuori di fan adulti ex bambini degli anni 80 e quindi ovviamente consigliatissimo a livello se vedete prendere il Kingdom Legacy sono uguali stesso lo stesso ma comunque ovviamente per chi è fan di Blaster in generale o comunque vuol farsi appunto tutti gli Autobot o chi non ha già preso il Tita Returns che comunque era un leader è tutto un altro discorso ma vabbè è ovviamente consigliato il buon Blaster ben fatto giocabile e sondato ad Eject come accessori che facciano altri minion suoi di Autobot cassette bot Autobot e quindi ovviamente prendetelo e fatene il buon uso nella vostra collezione grazie quindi per aver visto questa mia video recensione fatemi sapere cosa ne pensate cliccate mi piace condividete iscrivetevi al mio canale passate poi da leggere sotto su VectorSigma.it la recensione scritta che faccio che farò insomma devo fare ma ci sarà probabilmente del nostro su Blaster qui che Legacy e soprattutto comunque partecipate numerosi alla community dei fan italiani su Facebook di Autorobot.it ovviamente tante buone cose e ci vediamo alla prossima video recensione di Autorobot.it